Oggi Dio ama chiunque sappia seguire la sua volontà, mostrare sollecitudine per i suoi fardelli e dare tutto se stesso per Lui. Con cuore sincero e onestà, Dio illuminerà costantemente queste persone e farà in modo che non sia lontanino da Lui. Egli dice spesso a coloro che si spendono sinceramente per me. Di sicuro concederò grandi benedizioni. A cosa si riferisce la parola? Benedizioni lo sai. Riguardo all'opera attuale dello Spirito Santo, indica i fardelli che Dio ti dà. Per tutti coloro che sono in grado di portare un fardello per la Chieda. Che si sacrificano sinceramente per Dio. Che si sacrificano sinceramente per Dio. I loro fardelli e la loro sincerità sono benedizioni da parte sua. Inoltre anche le rivelazioni di Dio al oro sono una benedizione da parte sua. Inoltre anche le rivelazioni di Dio.